Il senatore Germana se intende intervenire, no? Quindi chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Il ministro Salvini interviene. Prego. Grazie, Presidente. Grazie a tutti i senatori che sono intervenuti perché effettivamente è una giornata rilevante. Torno con un brevissimo inciso a ieri quando da sinistra ci si voleva convincere che non avremmo potuto e dovuto procedere alla discussione e all'approvazione del decreto perché stavamo infrangendo leggi, regolamenti, costituzioni e quant'altro. Io vi ricordo che dicendo questo non avete mancato di rispetto al ministro Salvini che è l'ultimo dei problemi, ma il decreto di cui stiamo parlando è stato emanato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, molto semplicemente. Quindi se avete dubbi di costituzionalità rivolgersi al colle che penso abbia tutti gli elementi di garanzia e di superiorità per decidere cosa si può fare e cosa non si può fare. Se cominciamo così. Capisco il nervosismo perché dopo 60 anni di chiacchiere vostre noi facciamo quello che non avete fatto voi. Veniamo a questi cinque articoli perché poi di questo si tratta. Io ho sentito gli interventi anche in Commissione. Ringrazio tutti per gli spunti, anche le critiche positive. Ho l'impressione che qualcuno non abbia letto il testo di cui stiamo parlando perché altrimenti avrebbe detto così diverso. Comunque partiamo. Se interessa replica e se no vi lascio le vostre certezze. Ministro, prego. Continuiamo con la replica. È curioso. Comunque io parlo a chi vuole sentire. Mi sono fatto dare nel dettaglio la mole di investimenti che in Sicilia e in Calabria sono già cantierati o saranno cantierati, che non hanno precedenti nella storia repubblicana, 28 miliardi fra strade, autostrade e ferrovie in Sicilia e 28 miliardi fra strade, autostrade e ferrovie in Calabria. Quindi da questo si parte, da un investimento che non ha uguali. Ragusa-Catania, Agliati, un miliardo e mezzo, opera attesa dal territorio che riveste una particolare valenza trasportistica, adeguamento a quattro corsie della strada statale 640, strada degli scrittori Agrigento-Caltanissetta, un miliardo di euro. Raddoppio della careggiata sulla statale 284 tra Paternò e D'Adrano, 500 milioni di euro. In corso di aggiudicazione la tangenziale di Gela, 400 milioni di euro. In corso le attività di progettazione la tangenziale di Palermo, con collegamento alle autostrade A19 e A29. Se interessa vado avanti, perché qualcuno dice che se fate il ponte non fate il resto. Noi stiamo facendo tutto, poi se interessa vado avanti. Per il settore autostradale, nono lotto dell'autostrada Siracusa-Gela, 500 milioni di euro. Peraltro nel decreto c'è anche il commissariamento dell'A19, la Palermo-Catania, da tanti citata, su cui noi stiamo investendo e daremo poteri straordinari al commissario. Rete ferroviaria, perché si è parlato di strade e di ferrovie che si sono in queste condizioni, non è per colpa del ponte che non c'è, evidentemente. Nuovo collegamento veloce, modernizzazione della ferrovia Palermo-Catania-Messina, 11 miliardi di euro. L'obiettivo è quello di realizzare 148 chilometri ferrovia a maggior velocità per passeggeri merci entro giugno 2026. Ripristino ed elettrificazione della linea Palermo-Trapani per un investimento di 280 milioni di euro. Bypass di Augusta per un investimento di 172 milioni di euro. Sono previsti interventi anche per il nodo di Palermo, il nodo di Catania, la linea Palermo-Agrigento-Porto-Impedocle, per il collegamento con gli aeroporti Trapani-Birge e Fontana Rossa e per la Caltagirone-Gela con un investimento complessivo di circa 600 milioni di euro. Questo sul fronte siciliano. Arriviamo dall'altra parte dello stretto, in Calabria. Nella rete stradale e autostradale gestita da Nines è previsto un piano di investimenti complessivo pari a 12,8 miliardi di euro, più di un miliardo di manutenzione programmata, 11 miliardi e 600 milioni di euro di investimenti, tra gli investimenti prioritari ovviamente si segnala la strada statale 106 ionica e dalle parole si passa ai fatti e ai cantieri e alcuni miglioramenti funzionali della 2 e il completamento della strada statale 182 e la trasversale delle serre. Sulla ferrovia, sempre in Calabria, è previsto un piano di investimenti di 34 miliardi, di cui 16 già finanziati. Fra gli altri interventi l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, poi l'adeguamento tecnologico della linea Battipaglia-Reggio Calabria, la variante di Canitello, la linea Rosarno-San Ferdinando, eccetera. Questo per rispondere a quelli che dicono sì, ma fate il ponte e manca tutto il resto. Noi ragioniamo di insieme, facciamo il ponte che dà un senso a tutto il resto. Perché se io sto spendendo 11 miliardi di euro per arrivare in treno più velocemente da Palermo a Messina e altri 11 miliardi per arrivare più velocemente da Salerno a Reggio Calabria e poi mi fermo, smonto il treno, lo metto sul traghetto, inquino, arrivo dall'altra parte, rimonto il treno e riparto e perdo due ore, non ha senso quello che stiamo facendo. Quindi senza tutti questi 28 più 28 miliardi, è vero, il ponte da solo non serviva. Confermo, l'unicum lì in mezzo, senza strade, metropolitane e ferrovie, non serviva. Se finalmente si muove tutto il resto, fare tutto il resto per arrivare velocemente e poi fermarsi a Vila San Giovanni o a Messina non ha senso. Qualche intervento mi suggeriva che bisogna fare le strade per salire sul ponte, fortunatamente sono previste le strade per salire sul ponte. Questo è anche per scenderci. Fra gli altri cantieri che ho avuto l'onore e la gioia di visitare, alcuni sbloccare, alcuni accelerare, alcuni semplicemente controllare, io ricordo in questi mesi il passante di Firenze, sette chilometri di avveniristica galleria sotto la città per dividere l'alta velocità dalle merci e dai regionali per evitare che un deragliamento blocchi tutto il Paese. Anche lì ovviamente c'erano circa 30 contestatori del no. Ecco, io penso che gli italiani abbiano scelto il governo dei sì. Se avessero avuto il governo dei no, il no TAV, il no TAP, il no qui, il no là, il no ponte, il no flat tax, il no autonomia, no Expo, no Olimpiadi, avrebbero potuto scegliere a sinistra. In democrazia ci hanno dato una responsabilità di passare dalle parole ai fatti. Penso ad esempio al sopraluogo sul cantiere dell'alta velocità Napoli-Bari. A lavori ultimati si arriverà in due ore da Napoli a Bari e in tre ore da Roma a Bari. Anche lì c'è qualcuno contrario e mi spiace, io ascolto tutti, mi confronto con tutti, ma se poi un'opera pubblica serve agli italiani, io vado avanti come un treno e se ci sono i comitati del no, mi spiace. Raggiungo però anche un altro obiettivo che io ho incontrato i due sindaci di Napoli e di Bari che sono democraticamente eletti dai cittadini, ho incontrato centinaia di sindaci, compreso il sindaco di Longobucco col viadotto crollato a cui abbiamo già mandato i tecnici ANAS se stiamo lavorando per la rimessa in sicurezza di quella e tante altre infrastrutture che se non sono state manutenute da qualcuno prima di noi, evidentemente le responsabilità andranno accertate anche dalla magistratura da quel punto di vista. Dicevo, ho incontrato i sindaci di Napoli e di Bari che aspettano da qualche anno un collegamento diretto fra Napoli e Bari in treno prima dell'alta velocità che qualche ministro prima di me aveva promesso, ebbene posso dire ai cittadini sia di Napoli che di Bari, a studenti, lavoratori, che il collegamento diretto Napoli-Bari ci sarà e avrò la gioia di farci il primo viaggio in treno, quello annunciato da ministri del PD di qualche anno fa, per intenderci. Poi ricordo l'alta velocità Brescia-Verona-Vicenza, ricordo il completamento dell'Asticuneo, siamo all'ultima tranche, anche qua quanti decenni di attesa per l'Asticuneo. E poi arrivo al ponte, bisogna osare, bisogna osare, l'Italia e la patria del Rinascimento. Se Michelangelo, Raffaello o Leonardo da Vinci non avessero osato, se avessero dovuto passare attraverso la commissione di studio costi-benefici, non avremmo quello che hanno fatto Raffaello, Leonardo e Michelangelo. Fortunatamente bisogna osare. Le chiuse sui navigli di Leonardo da Vinci, se ci fossero state all'epoca i 5 stelle, noi milanesi non le avremmo mai viste, per intenderci, perché ci sarebbe il comitato anti-Leonardo, questo è un matto, vuole fare le chiuse sui navigli, fermatelo, è denaro speso male. Lo diceva qualche intervento prima di me, se avessimo ragionato nella logica non serve, non avremmo l'autostrada del sole, perché io ricordo che nel dopoguerra c'era qualche parte politica che avversava perfino l'autostrada del sole, perché bisognava invece fare altro. Ma fortuna che l'hanno fatta, l'autostrada del sole, l'alta velocità fra Milano e Roma, il tunnel di base del Brenno era la TAV e qualcuno mi vedeva convincere a proposito dei custodi del denaro pubblico che dopo aver speso miliardi per scavare un tunnel sotto una montagna avremmo dovuto spenderne altri per riempire il tunnel sotto la montagna, andiamo avanti con la TAV e su questo, visto che noi stiamo facendo tutto quello che all'Italia ha richiesto, spero che il governo francese non venga meno alla parola data perché altrimenti di lezioni noi non ne prendiamo da certe latitudini. Il Mose, se non avessimo avuto il Mose, perché anche lì i comitati, Venezia sarebbe finita sott'acqua decine di volte, avremmo messo a rischio un patrimonio non dell'Italia, del mondo e poi la Orte Falconara, la Roma Latina che abbiamo commissariato da quanti anni si parla della Roma Latina, la Tremezzina sul lago di Como, la diga di Genova, potrei andare avanti a lungo. Sul ponte io ricordo che il concorso internazionale di idee del 1968 e a questo pongo particolare attenzione, la critica politica ci sta per carità e la benvenuta anche con dati bizzarri, chi contesta questa grande opera necessaria all'Italia e all'Europa, non contesta il governo, la Lega, Salvini, il ministro. Fa un torto a centinaia di ingegneri che in questi 50 anni sul ponte hanno lavorato. È il ponte non realizzato, più studiato, più radiografato, più atteso al mondo. Al concorso internazionale del 1968 parteciparono fra gli altri, con progetti vincenti, due luminari dell'ingegneria italiana come il professor Pierluigi Nervi e il professor Sergio Musmeci che 50 anni fa proposero il ponte a campata unica fra Messina e Reggio come l'opera che andava fatta. Quindi non per rispetto a questa maggioranza ma centinaia di ingegneri italiani che sono i migliori al mondo il ponte sa da fare. Perché è vero, è costato già centinaia di milioni di euro per non esserci, ma vale il discorso della TAV. Abbiamo speso centinaia di milioni per non fare qualcosa? Io penso che la giornata di oggi sarà fondamentale anche dal punto di vista del buon utilizzo del denaro pubblico e quindi quelle centinaia di milioni di euro con oggi cominciano un percorso che ha l'obiettivo di aprire i cantieri non fra X anni ma nell'estate del 2024. Quindi l'anno prossimo apertura dei cantieri. Posso rassicurare, facciamo un ponte perché ci passino sopra auto, camion e treni, vi posso assicurare e questo non lo dice la politica ma lo dicono gli ingegneri e i marinai, sotto il ponte le navi ci passeranno. Ci passeranno le navi sotto il ponte. L'altezza di 65 metri permette alle navi di far passare sotto il ponte e facciamo un ponte sotto il quale passano le navi. Siamo una maggioranza curiosa. Riusciamo a fare un ponte che fa passare sotto le navi e sopra le auto e le ferrovie. Pensa che governo avveniristico. Ripuliamo il mare perché c'è chi di ambiente parla e c'è chi l'ambiente tutela. Noi ripuliamo quel tratto di mare secondo alcuni studi universitari che sono in corso d'aggiornamento ovviamente eviteremo 140.000 tonnellate di emissioni di CO2 nell'aria, ossidi, idrocarburi e quant'altro. La campata unica, lo dicevano ripeto, gli ingegneri 50 anni fa toglie il rischio sismico e evita di compromettere l'equilibrio marino dal punto di vista ittico e faunistico. Ovviamente gli ingegneri hanno studiato i problemi legati al vento. Se fai un ponte è perché resista al vento. Hanno studiato gli eventi legati ai terremoti. Ovviamente se ci fosse un terremoto distruttivo e catastrofico sarebbe distruttivo e catastrofico per tutto. Case, scuole, ospedali, ponti e quant'altro. Però io vi invito a fare una visita, come ho avuto l'onore di fare io, alla Galleria del Vento del Politecnico di Milano. Potete dubitare di Salvini. Spero che non dubitiate del Politecnico di Milano che ha curato gli esami legati al vento e curerà. Il comitato tecnico scientifico sarà composto dai più grandi esperti nazionali in termini di ingegneria ed infrastrutture. Non sarà un comitato politico, sarà un comitato tecnico scientifico e ci sarà, pensate bene, un consiglio di amministrazione composto da cinque persone per la più grande opera pubblica che partirà in lavorazione al mondo. Quindi abbiamo l'arroganza di nominare un consiglio di amministrazione a cinque per gestire quello che sarà un orgoglio italiano. L'ha detto qualcuno che è intervenuto. Sarebbe bello che almeno su alcuni temi la politica si unisse, perché questo sarà un orgoglio italiano al mondo. Verranno da tutto il mondo a studiare, a visitare, a cercare di copiare. E quindi è in corso da parte dei tecnici di FS e lo studio sui flussi. Sono in corso tutte le valutazioni, verranno ovviamente rispettate tutte le normative, impatto ambientale, impatto paesaggistico, la progettazione in corso. Anzi, nel nome del buon utilizzo del denaro pubblico, il ripartire col progetto Ponte ci metterà a riparo anche dai contenziosi miliardari che questi sì pendono da anni sulle nostre teste. Quindi poi io aspetto il contributo di tutti, però l'importante è scindere due ruoli. Il ponte lo fanno gli ingegneri, lo curano i geologi, gli architetti, lo faranno migliaia migliaia di operai e le stime parlano, nell'arco della lavorazione, la lavorazione ultimata, di centomila posti di lavoro vero fra Sicilia e Calabria. Non redditi di cittadinanza dati una tantum. Centomila posti di lavoro vero fra Sicilia e Calabria. Siamo in grado di contrastare le infiltrazioni mafiose. Sì, sì. Io mi fido della magistratura, mi fido delle forze dell'ordine, mi fido anche dei giornalisti di inchiesta italiani. Abbiamo appena approvato un codice degli appalti che entererà in vigore, in via anticipata per i comuni colpiti dall'alluvione in Romagna, dando ai sindaci più fiducia e alzando le soglie per i lavori. Perché io penso che le critiche che sono arrivate da certa sinistra, da certa stampa sul codice degli appalti, in base al quale se l'appalto è più veloce e allora favoriamo la corruzione, chiunque abbia fatto per un giorno l'amministratore comunale sa che è vero l'esatto contrario. Se l'appalto è veloce è più difficile che il corrotto incontri il corruttore. Se l'appalto ti dura non dieci giorni ma dieci anni, è chiaro che per la corruzione è più facile infilarsi, noi abbiamo scelto di fidarci di sindaci, imprenditori e liberi professionisti. Io non so se c'è un tempo nella replica, non voglio portarvi a tempo, ho una trentina di pagine tecniche perché fortunatamente ci sono tanti giovani che ci stanno guardando, che sono iscritti alle facoltà di ingegneria di tutta Italia e che votano per qualunque partito, che sperano che oggi il Senato dia loro un segnale di orgoglio, di rinascita e di speranza. Noi stiamo parlando a migliaia di ingegneri e futuri ingegneri che scommettono sulla bravura, sulla visionarietà dell'Italia e degli italiani. Ovviamente i siciliani, oggi ho sentito i diversi interventi, il mancato collegamento diretto costa, secondo le stime, alla Regione Sicilia 6 miliardi all'anno di mancato collegamento stabile. Quindi il banale conto della spesa, ma siamo qua a parlare di un'opera che spero possa far parlare e far ammirare l'Italia a lungo, il banale conto della spesa ti dice che se la mancata diretta colleganza costa 6 miliardi all'anno avete ben capito che l'infrastruttura si ripaga velocemente. Oggi il traghetto ha costi di decine di euro che per i pendolari, per gli insegnanti, per i poliziotti, per i professionisti non sono un costo adeguato e sicuramente il ponte avrà costi inferiori. Poi, per carità di Dio, raccogliamo da oggi la società stretto di Messina che torna operativa e che poi si occuperà di tutti gli aspetti economici. Voglio rassicurare chi ha parlato di Europa che uno dei primi temi di cui ho parlato col Commissario europeo dei trasporti Vallean e che con più passione il Commissario europeo dei trasporti sta seguendo è il ponte sullo stretto di Messina. Quindi da questo punto di vista temo di dover deludere chi aspetta che l'Europa ci dica un no. Anzi, aggiungo che andremo a chiedere alla Banca europea degli investimenti un contributo e alla stessa Commissione europea un contributo per realizzare quello che l'Europa, non il governo Meloni, Salvini, eccetera, ha riconosciuto come un corridoio da ultimare entro il 2030. Ora, è evidente che se i lavori partono nel 2024 non si arriverà a ponte ultimato nel 2030. Però, se tutto quello che è agli atti, perché non sono chiacchiere, se quelle decine di miliardi per potenziare le infrastrutture in Sicilia e in Calabria arriveranno a compimento fra 2026 e 2032, penso anche all'alta velocità fra Salerno e Reggio Calabria che sono arrivato al Ministero, non era progettata. Qualche difensore legittimo del fatto che bisogna recuperare tempo perduto e alcune regioni del Sud sono state dimenticate, io non so se aveste sollecitato anche i miei predecessori che evidentemente non erano particolarmente attenti allo sviluppo dell'alta velocità fino a Reggio Calabria, perché ci stanno lavorando adesso. Probabilmente per il Ministro Toninelli il rapporto costi-benefici non valeva la pena dell'alta velocità fino a Reggio Calabria, però per me invece ne vale la pena. Quindi stiamo componendo un puzzle che renderà l'Italia. L'Italia più moderna, più veloce e più sicura con oggi ha una delle tante risposte, poi il ponte è un tassello. Per me il ponte di San Benedetto Po piuttosto che il ponte di Calusco d'Adda o il viadotto di Longobuco o i viadotti dell'autostrada A24-A25. Mi avete lasciato una bella eredità, poi parleremo delle responsabilità di chi c'era prima. Il mio obiettivo è offrire ai residenti di Abruzzo e Lazio, un servizio all'altezza di quella che si chiama Ocostrada, cercando di ridurre il pedaggio perché, ripeto, abbiamo trovato delle situazioni incredibili fra le 117 opere commissariate. Io capisco il rumorio, però noi siamo qua da sette mesi, in sette mesi i miracoli non se ne fanno, ma mi sembra... Silenzio. Prego, Ministro, concluda. La cosa è talmente appassionante e sfidante che mi spiace che qualcuno sia così nervoso perché oggi sarà una grande giornata, non solo per Sicilia e Calabria. Oggi è una grande giornata per tutto il Paese Italia e quindi io ne sono orgoglioso di essere umile, operaio. Poi da oggi faranno il loro lavoro gli ingegneri, gli architetti, i geologi, i tecnici, i professionisti. Vabbè, ho sentito abbastanza. Io ringrazio chi ci crede. Sarà un'opera facile? No. Se se ne discute da secoli non sarà facile. Però io penso che gli italiani ci chiedano di essere concreti, veloci. Io ringrazio i colleghi ministri che hanno dato prova in queste ore di una concretezza, di una rapidità e di uno spirito istituzionale notevole, dando immediate risposte alle popolazioni di Romagna, Emilia, Marche e Toscana, a cui va il nostro pensiero, la nostra vicinanza, il nostro sostegno e il nostro contributo concreto, due miliardi. Però anche lì ci sono alcuni ingegneri, alcuni esperti di tutela del territorio, alcuni geologi, di cui sto leggendo interessanti interviste sui giornali in questi giorni, che invitano che oltre allo stanziamento di miliardi si metta davvero e non a chiacchiere in sicurezza il territorio, dragando fiumi e torrenti, togliendo la legna da dove va a essere tolta e curando gli argini, perché ogni essere vivente è assolutamente da tutelare, però uomo e donna magari un minimo di tutela in più rispetto alla nutria lo meritano. Io vi ringrazio e con oggi parte un percorso che durerà anni, che però penso sia il coronamento dei sogni di centinaia di studiosi che hanno pensato in grande per il nostro Paese. Quindi io mi occupo di manutenzione quotidiana, piccola, giusta, vie, rotonde, treni pendolari e tutto quello che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti deve curare, però se torniamo a pensare in grande l'Italia tornerà a essere il Paese che nel mondo occuperà il posto che le spetta. I primi, perché questo sarà il ponte a campata unica più lunga al mondo. Quindi grazie, viva il ponte e grazie per il contributo anche di chi ha criticato, perché è sempre utile capire dove si sbaglia. Basta che le critiche si poggino su fatti e non su pregiudizi ideologici.